Un cartellore costituito da tantissimi eventi, diciamo affatto omogenei, si va dalla letteratura alla musica classica, alla musica rock, al bel canto, ne ricordo uno fra tutti, Mario Cassi viene nuovamente a esprimersi nella nostra estate aretina. 20 date tra teatro, concerti, appuntamenti letterari ed incontri pubblici, l'estate aretina è così pronta a partire all'insegna della cultura e degli eventi con estate in fortezza, la Maxi rassegna che da giugno ad agosto animerà lo scrigno dei tesori della città. Quel palcoscenico non è mai stato inaugurato, bene verrà inaugurato il 21 giugno con il giorno della festa della musica con uno spettacolo, poi ne seguiranno tantissimi altri, finiranno il 26 agosto, guarda caso, con uno spettacolo, con uno degli eventi della settantesima edizione del Polifonico Internazionale di Arezzo, quindi una estate calda. Giorgio Panariello, Samuele Berzani, Elio Giovanni Truppi, questi solamente alcuni dei nomi nel cartellone. Abbiamo deciso di dare spazio anche ai giovani emergenti, questo non è un paese per giovani, noi nel nostro piccolo, nella nostra fortezza speriamo di poter dare anche questa possibilità. Ad Arezzo arriva poi anche il Festival Città dei Lettori, due giorni, 24 e 25 giugno, che avranno come protagonisti i finalisti del premio Strega. Non dobbiamo dimenticare che siamo la città dove è nato Francesco Petrarca, cioè la lingua italiana è nata anche ad Arezzo, quindi che si venga ad omaggiarla al netto dell'attrattività della città, nel luogo, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana per quanto attiene alla letteratura, non era scontato ma è ovviamente molto gradito. E quindi saremo tutti lì ad ascoltare i cinque finalisti di uno dei più importanti premi letterari italiani.